Volevo cominciare facendo un piccolo esperimento. Siccome quando siamo in un auditorium siamo tutti quanti seduti guardando verso la stessa direzione, questo è un po' simile a quello che succede stando in un aereo ad esempio. E possiamo immaginare, chiudendo gli occhi per qualche secondo, invece di trovarci su una navicella spaziale che viaggia nello spazio interstellare, nell'oscurità, tra le stelle. Concentriamoci un attimo e pensiamo che sia così. Se poi riapriamo gli occhi, torniamo alla realtà, forse quelli di voi che ci hanno creduto per questi pochi secondi potranno ancora sentire l'ebbrezza di questo viaggio interstellare. E questa non è una sensazione fallace, perché sulla Terra noi siamo davvero in un viaggio interstellare. La Terra è una navicella spaziale che si muove attorno al Sole a una velocità più o meno di 1200 km all'ora, non è poco, e insieme al Sole si muove attorno al centro della galassia a circa 800.000 km orari. Quindi questa ebbrezza della velocità si può sentire davvero immaginandola. La Terra è un'astronave che con la sua atmosfera ci protegge dalle eccessive radiazioni solari o dalle eccessive radiazioni che ci provengono dal resto dell'universo, da sorgenti forse ancora sconosciute. Ebbene, questa astronave è stata fotografata in questa foto che un famoso astronomo, Carl Sagan, nel 1990 ha definito la foto del pale blue dot, ossia un pallido puntino azzurro. Una foto scattata da una sonda che si chiama Voyager 1, in viaggio tuttora ai confini del Sistema Solare. e questa sonda, appena oltrepassato Saturno, fu fatta girare, guardare verso la Terra e scattare una foto tra gli anelli di Saturno in cui si intravede un puntino insignificante all'apparenza. Eppure Carl Sagan ci ha fatto notare che questo puntino contiene tutto ciò che noi conosciamo, tutte le nostre storie, tutte le persone che abbiamo conosciuto, tutti i nostri sogni. Sembra insignificante, eppure è molto significativo per noi. Contiene, conterrà anche il nostro futuro, contiene attualmente le nostre scelte, scelte che siamo portati a compiere quotidianamente. La mia scelta, molti anni fa, fu quella di dedicarmi proprio allo spazio che circonda la navicella spaziale su cui ci troviamo, ossia il pianeta Terra. Una scelta che molte volte ho pensato, forse in una visione quasi nichilista, potrebbe sembrare inutile. Una scelta, uno studio di un qualcosa di non utile. Eppure io ho avuto la libertà di poter fare questa scelta, grazie anche al luogo in cui sono nato, grazie alla mia famiglia, non è retorica, è vero, è una grande fortuna, però questa libertà è un po', io l'ho visualizzata sempre come trovarsi al centro di una piazza e poter scegliere qualsiasi delle strade che da questa piazza si diramano. Poi però se la strada non si percorre, la libertà scompare, e rimane solamente una potenza, non un atto. Bene, nella mia scelta quasi inconsapevole di dedicarmi allo studio dell'universo, io fui guidato all'inizio da un regalo, un piccolo telescopio che mi regalarono quando avevo dieci anni, che poi mi ha fornito quel giusto elemento per poter poi interpretare correttamente quelle che sarebbero dovute essere le mie scelte in futuro. Ma nell'ambito della ricerca, quotidianamente, dobbiamo fare delle scelte per ciò che riguarda gli argomenti da investigare. E quando si parla dell'universo, questi argomenti sono pressoché infiniti. Quindi come si sceglie un argomento di ricerca? Secondo me deve avere tre elementi. Primo deve incuriosirci alla follia, deve suscitare una grande passione in noi. Ma dobbiamo assicurarci che sia un elemento affrontabile con gli strumenti che la ricerca scientifica attuale possiede. E, in terzo, deve essere un qualcosa che possa interessare, almeno marginalmente, la comunità scientifica e non solo. Bene, io ho deciso quindi, come vi è stato detto in precedenza, di studiare i campi magnetici astrofisici, calamite su tutti i corpi spaziali, celesti, sono delle vere e proprie calamite, come quelle che abbiamo sul nostro frigorifero, il cui campo magnetico però si modifica, si evolve, non sappiamo da dove nasca, quindi è un grande mistero dell'universo. E al contempo, invece, mi sono fatto affascinare dallo spazio più vicino al sistema solare, quindi senza andarmi a perdere nell'universo profondo, spazio in cui si possono trovare altri pianeti, cosiddetti pianeti extrasolari o esopianeti in italiano. Questo è uno studio che iniziai qualche anno fa, anche allora guidato più che altro dal voler collaborare con un amico, soprattutto per le sue caratteristiche e capacità umane, oltre che quelle tecniche e scientifiche. Decidiamo proprio di cominciare a osservare Proxima Centauri, che è l'oggetto forse più ovvio da osservare, essendo quello più vicino al Sole, l'oggetto stellare, di natura stellare più vicino al Sole. E Proxima Centauri, come potete immaginare, è oggetto di molte ricerche. Ebbene, noi, studiando Proxima, che può essere immaginato come una stella, è una stella rossa, una nana rossa, e non sappiamo cosa c'è intorno a Proxima Centauri. In questa illustrazione ci sono due pianeti, e queste due stelle rappresentano gli altri due membri del sistema triplo a cui Proxima appartiene, ossia Alfa Centauri A e B. Ebbene, noi ci siamo messi a studiare la luce proveniente da Proxima e abbiamo trovato delle oscillazioni, delle oscillazioni che in questa figura rappresentiamo. Una, l'abbiamo ricostruito, ciò che era già stato scoperto, sia l'esistenza di un pianeta chiamato Proxima B, pianeta piccolo, che orbita in 11 giorni attorno a questa stella. E poi noi abbiamo detto, ci sembra che ci sia qualcos'altro. E quindi abbiamo questa foto, questo grafico, che illustra l'illustrazione di uno che è tutto ronc, pianeta candidato, Proxima C. Questi numeri cosa sono? Sono le cosiddette velocità radiali, ossia le fluttuazioni che la stella, Proxima Centauri, compie nella direzione della nostra linea di vista. Guardate, Proxima Centauri si trova a 4,2 anni di distanza, 4,2 anni luce di distanza, ossia una distanza non umana. La luce impiega più di 4 anni per arrivare qui. Per paragone, la luce dal Sole impiega 8 minuti. Mentre quella della Luna, un secondo. Invece queste velocità sono velocità umane. Perché? Sono velocità dell'ordine di uno o due metri al secondo. Ossia una camminata lenta o veloce. Quindi, se ci penso descrivendolo, mi sembra quasi incredibile che tuttora possiamo misurare la velocità di una stella lontana dell'ordine di un metro al secondo. Eppure, sono strumenti di cui la scienza moderna è fornita. È frutto del lavoro di anni di persone, scienziati, che si sono messi in comunità e hanno lavorato insieme. Ovviamente questo pianeta candidato io non lo definisco come una scoperta, non mi piace definirlo come una scoperta, ma come un risultato, forse come una porta che apre una sala piena di altre domande. Questo grafico invece mostra la popolazione di tutti gli esopianeti conosciuti finora. È un grafico fatto dal gruppo di ricerca del satellite Kepler che ha osservato centinaia di migliaia di stelle alla ricerca di pianeti extrasolari. Tuttora non è più in funzione. È un grafico che mostra tutti i pianeti scoperti con vari metodi, non solo le velocità radiali, ma anche il transito, l'imaging diretto, sono metodi molto tecnici, e li mette il loro periodo orbitale in termini di giorni come funzione della loro dimensione in termini di relazione alla Terra. Ebbene, in questo grafico in cui si possono vedere diverse popolazioni da pianeti di tipo Gioviano Caldo, mondi di lava, pianeti rocciosi, bene, Proxima C si colloca qui, su questo triangolo che loro definiscono frontiera. È quindi un risultato di frontiera. Potrebbe aprire la scoperta di nuovi altri pianeti che si trovino qui che abbiano queste caratteristiche, lunghi periodi orbitali e piccola massa. E proprio per questo è un risultato in discussione, discusso, che andrà discusso negli anni e andrà provato con altre osservazioni. Benissimo, ma tutto ciò è forse affascinante, almeno per me lo è, ma qual è l'utilità di tutto ciò? Potrebbe chiedersi qualcuno. Noi sappiamo che l'astronomia, così come la scienza in generale, in genere fa da apripista, scopre qualcosa di nuovo, lo sviluppa e poi ci regala nuove tecnologie che magari oggi abbiamo nelle nostre tasche. Questo è un qualcosa di risaputo. Però io credo che non sia l'unico impatto che l'astronomia in particolare, l'astrofisica, possa dare alla comunità. e mi sono sempre un po' scervellato anche insieme ad altri colleghi perché parlando quotidianamente di corpi celesti lontani, si perde un po' a volte il contatto con la realtà, si può perdere. Quindi come tornare con i piedi per terra? Questa è una domanda che ci siamo spesso fatti, io e amici, colleghi, e undici anni fa ci venne un'idea. Perché non utilizzare l'astronomia come campo di discussione, come merce di scambio culturale con altre popolazioni, come grimaldello per aprire quei forzieri che tutti i ragazzi, credo, che vanno a scuola e anche quelli che non ci vanno, hanno nelle loro teste, nei loro cuori e che sono pieni di curiosità, pieni di stimoli, ma a volte non riescono ad essere aperti. Io credo che l'astronomia possa essere per la sua natura stessa un grimaldello, un qualcosa che possa stimolare davvero il pensiero critico dei ragazzi. Bene, così nacque questo progetto che si chiama Galileo Mobile con l'idea di farlo una sola volta, di girare una parte del Sud America, visitare piccoli villaggi sulle Ande, parlare di astronomia come noi la conosciamo ai ragazzi delle scuole di villaggi in cui l'astronomia in genere non arriva e sentire da loro le loro storie, sentire da loro qual è la loro tradizione, spesso centenaria, millenaria, sentire da loro le loro domande, le loro idee e farli sentire parte di una comunità globale, non esclusi, non esclusi. Così abbiamo cominciato, abbiamo visitato diversi paesi con questo progetto, con Galileo Mobile, dall'India all'Uganda e poi ultimamente, negli ultimi due anni, abbiamo deciso che era forse il caso di compiere un altro passo, il passo che vuole utilizzare, di nuovo, sembra un passo più grande della gamba, approviamoci, vuole utilizzare questo passo l'astronomia come mezzo per la pace. Così sono una dei due progetti, uno si chiama Columba, Galileo Mobile Columba, che opera a Cipro e mette insieme ragazzi che vanno a una scuola nelle due parti divise di Cipro, nella parte cipriota turca e nella parte cipriota greca. e ultimamente abbiamo usato invece l'astronomia di nuovo per un altro progetto che si chiama Amanar che significa Pleiadi in una lingua berbera. Le Pleiadi sono un ammasso aperto di stelle nella costellazione del Toro. Ebbene, Amanar si è rivolto e si rivolge tuttora e si rivolgerà a persone, bimbi della popolazione Saharawi, una popolazione di rifugiati che dovrebbe vivere, viveva in uno stato che si trova a sud del Marocco, Sahara dell'Ovest e poi per cause che non sto qui a discutere è dovuto spostarsi, ha dovuto spostarsi più di 40 anni fa nel sud e nel sud-ovest dell'Algeria e da 40 anni vivono in campi profughi che nel frattempo sono diventate vere e proprie città. Bene, pensando a questo progetto ovviamente i dubbi erano enormi. Allora hanno ben altri problemi non quello di discutere d'astronomia. Ma noi non ci siamo arresi anche contro i nostri stessi dubbi e abbiamo deciso di andare lì. Siamo andati lì non più di un mese fa, un mese fa, ottobre. E vi garantisco che non appena abbiamo messo piede nei campi profughi ci è stato chiaro che ciò che facevamo aveva assolutamente senso, un grandissimo senso. Queste persone sono persone che hanno pochissimo e che ricevono aiuti internazionali solamente per ciò che riguarda le prime necessità, medicina, il cibo, l'acqua, ossia la roba fondamentale. Ma l'essere umano non si nutre solo di cibo, non bisogna neanche di cibo per la mente, per l'anima, lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti. Vedere ragazzi che appena usciti da scuola hanno solo il deserto davanti a loro perché vivono nel Sahara ci fa capire che questo vuoto va riempito e portare una discussione su un tema come l'astronomia che genera attività sul momento, durante la nostra visita e poi può guidare l'immaginazione a compiere nuove attività, a viaggiare con la mente, a pensare fuori dagli schemi, forse sì, a divergere dal loro destino che sembra segnato è quello di essere nel deserto, in una zona arida e invivibile. Anche le popolazioni che vivono in queste condizioni sono sotto lo stesso cielo che è il nostro motto, essere tutti sotto lo stesso cielo con noi, con noi di Campobasso, con noi italiani, con noi europei, con loro sudamericani o con noi sudamericani e così via. Siamo tutti sotto lo stesso cielo, tutti nella stessa astronave che viaggia nello spazio interstellare. Grazie. Grazie. Grazie.